Oltre mille tamponi rapidi già effettuati e l'avvio della convenzione per consentire di effettuare i tamponi ai vigili del fuoco una volta al mese in farmacia. I vertici di Allianz Farmacie Comunali Lucca hanno illustrato a Palazzorsetti l'attività svolta finora in ambito Covid, a partire dal difficile periodo di inizio pandemia, quando le otto comunali sono rimaste aperte al pubblico sopperendo in qualche modo anche alla chiusura di molti ambulatori di medici di famiglia. Successivamente le farmacie hanno subito aderito alle iniziative per la diagnostica rapida avviate dalla Regione. Abbiamo attivato la funzione di erogazione dei tamponi rapidi antigenici in diverse sedi, la sede della 24 Ore che attualmente li fa anche di domenica, nella sede di Sant'Angelo vicino al supermercato Cop, nella sede di Monte San Quirico e poi in Capannori Nord e Capannori Centro. Abbiamo subito aderito alla campagna della Regione per i tamponi rapidi per le scuole, per tutto il progetto scuola, quindi gli alunni, i familiari degli alunni e così via. Sono tamponi che vengono, servizi che vengono erogati gratuitamente ai cittadini. Inoltre le farmacie forniscono tamponi rapidi a tutti i cittadini a prezzi calmierati e la convenzione avviata con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco si inserisce in questo percorso già tracciato. Un ulteriore esempio è stato detto dello sviluppo delle comunali lucchesi come farmacie dei servizi.